andrea vive per pino daniele è la sua passione che gli vuoi dire a pino andrea parla parla microfono fammi sentire che gli puoi dire niente pino pino solo e e a a a a a No, 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 no che gli vuoi dire appena andrea di di una cosa perché ti piace pino andrea dimmi il tuo e tu passi la vita con pino daniele è così tutto il giorno no no i sono pazzi ah i sono pazzi Tengo l'essere Dio, Dio, Cide, però è la mia, si son farsa, si son farsa, sono ancora che mi aspetto, adesso sono andato a diventa, come la tua ragione, la tua persona è tu, la vita voglio dire a me che ho provato a noi, e ho fatto questa volta e non mi devo andare, perché è un farsa, si son farsa, e non ci voglio parlare, e parlare, mandorle a parlare. Grazie a tutti. a prendere la sicura per il mio cammino e la via ma non stai a casa Andrea eh Dottor l'ultimo brano andiamo via saluta la Pino andiamo via saluta saluta vai facciamo l'ultimo brano andiamo via facciamo l'ultimo brano andiamo via vai è una tenera misura però un rumore un po' al signo è meglio perché ci sono troppi che lo riesce a fare il momento che si tratta è un viaggio che teniamo a fare